Emozionato come al primo giorno ma con la testa già proiettata al futuro. La seconda volta di Nicola Giorgino, eletto al primo turno come sindaco di Andia, con otte 30.000 preferenze, è piena di significati e di ringraziamenti per la città. L'emozione è tanta e devo ringraziare la città. Questa è una vittoria dedicata veramente ai cittadini andriesi, che ringrazio per il grande risultato che hanno dato, ha sottoscritto e alla coalizione. La conferma per la prima volta nella storia di questa città di un sindaco al primo turno eletto, nonostante cinque candidati sindaci, non c'era mai stato, c'è stato nel 2010, c'è restato nel 2015. Quindi li ringrazio perché significa che veramente hanno riposto grande fiducia nella nostra coalizione e nel sottoscritto. E tra l'altro guardando anche i dati nazionali ci riempie d'orgoglio perché tra tutte le città dei comuni capoluogo solo due hanno vinto al primo turno, Andrea, tra l'altro che ha più di 100.000 abitanti e Vibo Valenza. Consiglio comunale rinnovato con tante donne, un terzo dei consiglieri eletti sarà infatti di genere femminile. L'obbligatorietà della composizione delle liste con due terzi e un terzo, quindi in ogni lista ce ne avevamo ben 10, 313 candidati, circa 11 donne, 12 donne in ogni lista. È chiaro che c'erano come calcolo delle probabilità, molte più probabilità che entrassero donne in consiglio comunale ma effettivamente c'è stato un grande riconoscimento anche da parte degli elettori e questo ci fa piacere perché significa anche che il consiglio comunale si rinnova, ci sono nuove esperienze, nuove azioni propositive e servirà anche da stimolo per l'azione amministrativa. Andrea riparte dalla continuità e dalla programmazione avviata negli ultimi anni. Andrea riparte dal lavoro che non ha mai interrotto, non è interrotto perché il sindaco in carica è sempre stata al lavoro e continuerà a lavorare attraverso tutte quelle progettualità che come ho detto in campagna elettorale sono in itinere sulle quali chiaramente ci attiveremo per realizzarle al più presto, per controllare i tempi di realizzazione, per metterne in campo altre così come dal nostro programma e per cercare di risolvere anche alcuni problemi che oggi sono la vera emergenza sociale come il lavoro e l'occupazione.